I finanziari della Guardia di Finanza di Riposto lo scorso venerdì hanno sequestrato un carico di 41 moto, risultate rubate a Catania e provincia, in parte già stivate, all'interno di un container con motrice maltese e nascoste sotto voluminosi sacchi contenenti indumenti usati verosimilmente e destinati alle popolazioni africane. I militari della compagnia di Riposto, durante un'attenta perlustrazione eseguita nella notte lungo la parallela di Viespiaggia a Fondachello, sono stati insospettiti sulle prime dalla illuminazione di una zona isolata di campagna in cui alcuni uomini stavano furtivamente caricando in un container delle merci voluminose imballate in cerofan. All'avvicinarsi della pattuglia della Guardia di Finanza, i quattro soggetti, approfittando anche dell'oscurità, si sono dati alla fuga, ma due di loro di nazionalità nigeriana sono stati repentinamente bloccati dai militari della finanza. Il controllo della merce depositata nel piazzale vicino all'auto articolato, già in minima parte carico e dalla decente abitazione rurale, ha fatto subito rilevare che le moto, tra le quali i modelli recenti di BMW, Honda e Kawasaki, gli scooter anche nuovi e di grossa cilindrata, erano stati rubati nei mesi scorsi. I furti si sono verificati in particolare tra settembre e novembre nel Catanese, a Librino, Mister Bianco, Grevina e Catania, nella zona di Piazza Verga. Infatti il telaio di alcuni di essi risultava assegato proprio nelle parti dove vengono inseriti dispositivi antifurto, quali catene o blocca ruota. Sono stati rinvenuti inoltre numerosi sacchi e borsoni di beni usati, capi di vestiario quali scarpi e indumenti, nonché apparecchiature elettroniche, verosimilmente proventi anche questi da raccolte a fine di beneficenza e comunque destinati all'estero, in parte già posizionati nel container al di sopra delle moto per coprire interamente il carico furtivo e quindi sviare così gli eventuali controlli di polizia. A conclusione delle operazioni, i due nigeriani e il soggetto italiano che ha in affitto il terreno agricolo pluripregiudicato, con obbligo di dimora nel comune di Giarre, sono stati poi denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. Indagini sono in corso anche a carico di una seconda persona italiana che aveva in uso il terreno lungo la parallela di Viespiaggia, a Fondachello di Mascari.